Ciao amici di Urban Week, ci troviamo qui questa sera durante il concerto DJ Axe in compagnia di un grande ovvero DJ Fabio B, ovvero Fabio Bragaglia è giusto? Bragaglia, sì, Bragaglia Bragaglia, esatto allora Fabio abbiamo troppo poco tempo perché so che il concerto è quasi, è proprio, sta per iniziare ti faccio due domande per sapere cosa arriverà di tuo fresco fresco, allora dici prossimo lavoro allora il prossimo lavoro in realtà è già uscito da poco tempo ed è un EP composto da circa dieci canzoni oh, dieci canzoni, quindi un EP abbastanza ampio abbastanza grasso è grasso, ok, ci sono collaborazioni all'interno? sì, collaborazioni con DJ Axe, appunto, Amy Schilla, Ensi, Mondo Marcio, Maxi B, insomma e tanti altri diciamo i più grandi della scena al momento esatto, sì e quindi quando uscirà questo progetto, quando lo dobbiamo aspettare? allora, il disco, l'EP è uscito già adesso ma non è altro che una promozione per l'album che uscirà, penso, entro, cerco di farlo entro fine anno, comunque entro l'inverno la gente aspetta, quindi mi raccomando, mettiamoci sotto allora, vogliamo dire il titolo, perché mi è incuriosito il titolo di questo EP? il titolo è molto semplice, è un simbolo, è un otto rovesciato che sta per infinito adesso tu mi dirai, perché è infinito? vuoi che te lo dico? te lo dico, perché è infinito? ok, è infinito perché ci ho veramente messo un tempo infinito per farlo ok, quindi molto semplice la spiegazione wow, grazie allora Fabio B, noi ci lasciamo al concerto, vi saluto da Ozio Slim, alla prossima ciao raga!